Il format si chiama gioco di carta bianca. Ah, ok. Da Castelgofredo per giocare a carta bianca. Giocare a carta bianca? Giochiamo a carta bianca. Grazie mille. Lei chi è? E che ruolo faccio qua? Io sono Alessandro Beduschi e sono assessore all'agricoltura di Regione del Bardino. Grazie mille. Qual è la notità di questa settimana in Regione? C'è poca acqua e speriamo che piondi. La proposta che c'è stata? Razionalizzare l'acqua cercando nuove tecnologie. Quasi quasi siamo in Sicilia.